Il settimo incontro e bisogna chiedere al Signore di al di là delle notizie di quello che magari possiamo meditare occorre poi che questo diventi un terreno su cui lo Spirito Santo poi con la nostra collaborazione ci può guarire perché poi non può essere né un libro da solo né la conoscenza di un libro né la semplice meditazione che possano cambiare la nostra vita ma queste cose sono il terreno su cui poi bisogna chiedere al Signore di operare. Noi il Signore lo lasciamo operare se vi ricordate nell'ubbidienza a Lui nel potere veramente camminare con Lui chi ascolta la mia parola costruisce una casa sulla roccia oppure chi ascolta la mia parola la mette in pratica ecco questo mi amerà io e padre mio verremo a Lui eccetera. Ci sono tanti passi che dicono che legano proprio all'ubbidienza ecco il non fare di testa nostra e un po' una sintesi un po' di quello che abbiamo detto fino a ora perché questo l'incontro di oggi che riguarda le pagine 99 e 127 del libro il capitolo delle terapie nocive chiude la prima parte quella un po' della analisi della diagnosi ecco in fondo proprio per estrema sintesi e tanto per capirci abbiamo detto questo che la vera guarigione riguarda la capacità di amare se una persona riesce a guarire la sua capacità di amare noi diciamo poi perché abbiamo ricevuto la rivelazione di Gesù sul modello del Vangelo amatevi come io vi ho amato allora quella è la vera guarigione perché poi tante cose in questo mondo di per sé non si possono cambiare perché in questo mondo c'è la zizzania Gesù ha detto fino alla fine del mondo ci sarà il male, la zizzania però nel nuovo mondo, in quello che noi stiamo costruendo con il Regno dei Cieli in effetti tutto l'amore e tutta la capacità di amare che già abbiamo in questa vita man mano che guariamo nell'amore in effetti questa guarigione è per la vita eterna tutte le altre guarigioni parziali anche quelle che Gesù ha fatto nei Vangeli quelle fisiche così rimangono parziali perché se una persona è cattiva anche se guarisce una gambia, anche se guarisce dagli occhi, anche se guarisce dalla lebra rimane cattiva e quindi di fatto è una vita perduta mentre la capacità che il Signore ci dà di amare è una capacità possiamo dire già eterna quindi la guarigione eterna sta nella capacità di amare abbiamo detto abbiamo tanti sintomi che ci fanno vedere che noi non sappiamo amare perché abbiamo analizzato tanti sintomi i sintomi sarebbero tutte le rivalità, le rabbia l'incapacità di amalgamarci agli altri il fatto della gelosia, invidie il fatto dell'orgoglio, della superbia tutte le cose che riguardano il nostro narcisismo il nostro, il chiuderci, le tristezze ci sono tanti sintomi che ci fanno capire che noi diciamo poi abbiamo un male dietro i sintomi sono stati rapportati al flusso di sangue dell'emorroissa ecco il sangue dell'emorroissa era la possiamo dire il sintomo di un male che aveva dentro e che causava il sanguinamento e quindi simbolicamente si può associare benissimo anzi probabilmente è proprio quello lo scopo perché è una guarigione che riguarda l'umanità quindi tutti siamo feriti dentro tutti siamo sanguinanti tutti perdiamo sangue cioè perdiamo la nostra vita e quei sintomi sono il segno di un male che abbiamo dentro dietro questi sintomi abbiamo detto bisogna stare attenti perché certe volte noi giudichiamo le persone dai sintomi e non vorremmo combattere i sintomi ma non ci riusciamo perché poi combattendo i sintomi non si distrugge il male il male continua, continua quindi tante volte noi in maniera estenuante cerchiamo di risolvere il problema lottando i sintomi sia nostri che degli altri però non riusciamo a niente perché si deve arrivare a sconfiggere la sorgente del sanguinamento ecco la causa per cui si sanguina abbiamo detto dietro i sintomi in genere ci sono delle paure ecco le paure non nascono da sole nascono da esperienze negative che abbiamo esperienze di deficit esperienze negative situazioni che ci hanno fatto soffrire tutto quello che è successo nella nostra infanzia di negativo di fatto si traduce in paure stabili ecco non parliamo delle paure quelle occasionali per esempio che non so mi sta investendo una macchina ho paura vabbè quelle sono paure occasionali diciamo quelle pure servono poi ci sono paure buone paure per esempio di la paura di offendere gli altri la paura di offendere Dio però ci sono paure invece stabili dentro di noi per esempio la paura di perdere la stima la paura di non essere apprezzati la paura di essere scartati la paura di non valere niente la paura di essere poco intelligenti la paura di non essere all'altezza la paura di non saper fare niente la paura di essere falliti la paura di essere giudicati cioè le paure sono tantissime ma sono di più i sintomi perché una paura può scatenare tanti sintomi quindi noi vediamo i sintomi delle persone ma dietro questi sintomi ci sono le paure le paure poi a loro volta nascono da queste esperienze negative ma soprattutto sono il frutto di una tentazione quella che Adamo e Eva hanno subito da parte del demone e ci sono caduti il fatto di non apprezzare quello che Dio aveva dato il fatto che a un certo punto il demone, il serpente ha detto ad Adamo e Eva e all'umanità pure perché ci siamo pure noi in mezzo perché quella tentazione comincia da Adamo e Eva ma continua per questo si chiama originale perché ha origine là ma continua ogni giorno per noi perché siamo tutti sotto il segno di Adamo e di Eva cioè nel senso siamo uomini e subiamo questa tentazione il fatto di voler cambiare perché il demonio ha fatto capire loro che non valevano niente cioè che facevano schifo è come dicevamo l'esempio di una persona che dice a un'altra così mentre sta parlando a un'amica senti conosco un chirurgo plastico che ti può cambiare il naso ecco fatti cambiare il naso e allora è come se ci dicesse hai un naso che fa schifo è come se una persona dicesse a un'altra persona sai ho degli abiti miei se vuoi te li do ecco è come se dicesse che tu hai addosso diciamo è uno straccio il fatto che il serpente furbamente ha messo in testa Adamo e Eva che la loro condizione non era di frutto d'amore di Dio ma era uno stato disprezzabile ecco e questa è la possiamo dire la radice anche nostra ognuno di noi tutti gli uomini partiamo da questa sensazione che siamo fatti male che non siamo amabili che noi dobbiamo cambiare dobbiamo cercare altro perché così come siamo non possiamo realizzarci ed è un equivoco grosso perché di fatto poi Gesù invece ci dice che noi già siamo amati che è il contrario di quello che ha fatto credere il demonio e la guarigione nascerà proprio da questo fatto che una persona crede che Gesù la possa cambiare che veramente toccando Gesù poi vedremo nel libro ma in ogni caso per noi oggi ci concentriamo proprio su questo che ai versetti 25 e 26 di questa vicenda dell'emorroisa c'è scritto e aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio anzi piuttosto peggiorando quindi la sofferenza viene descritta da San Marco come appartenente non tanto al male è la prima volta in questa vicenda che spunta la sofferenza e la sofferenza giusto giusto spunta non sulla malattia ma sul fatto che i tentativi che aveva fatto per guarire erano andati tutto a fallimento e non solo era peggiorata ma aveva speso la sua vita inutilmente quindi questo capitolo riguarda proprio questo fatto che quando noi stiamo male spesso pigliamo ancora altre batoste cercando di guarire con strumenti sbagliati anche nella medicina non tutte le malattie sono guaribili ma quello che nella medicina per esempio è guaribile nel campo dell'amore quello della guarigione di cui ci stiamo interessando il fatto di guarire nella nostra capacità di amare qui per esempio le terapie strane le terapie fallimentari sono possiamo dire all'ordine del giorno ognuno di noi parte da quella grado di disprezzo di sé che poi viene alimentato per esempio dalle esperienze negative da bambini ecco è come se per esempio quando noi subiamo qualche problema nell'infanzia veniamo confermati nel disprezzo eradicati nel disprezzo di noi come per dire io sono fatto male devo crearmi una vita degna del degli altri e quindi io cerco proprio di valere davanti agli altri cerco di emergere cerco di essere qualcuno cerco di in qualche maniera uscire dallo schifo che sono dal male che sono io poi quando invece ricevo batoste sprofondo di nuovo in questo stato e allora le cure che noi cerchiamo gli esempi voi li trovate a pagina 121 122 123 ma intanto per arrivare là dobbiamo dire che le cure sono state il peggioramento lei aveva cercato di guarire ma di fatto ero peggiorata e aveva speso tutti i suoi soldi da questo punto di vista possiamo dire che nel campo nostro la parola medico di fatto è tra virgolette non sono i medici giustamente quelli del corpo ma medici sarebbero tutte le situazioni che nella vita si propongono come soluzione della mia infelicità ecco quindi medico significa anche idolo mi creo l'illusione che quella realtà mi possa cambiare la vita e quindi di fatto le tre tentazioni classiche lui analizza quelle riportate da Luca che hanno una sequenza un po' diversa da Matteo se ve le ricordate le tre tentazioni sono un pochino il piano su cui si realizza il fallimento delle cure e ora cerco di spiegarmi le tre tentazioni ve le ricordate quella della fame cambia le pietre in pane la seconda quella del pinnacolo del tempio che San Luca riporta questa il fatto di dire buttati giù anzi San Luca la porta al terzo posto al secondo posto quello dice ecco se mi adorerai avrai il possesso di tutti i poteri del mondo e la terza è quella del pinnacolo buttati giù che Dio ti deve aiutare cioè in pratica queste tre tentazioni diventano un po' con la pista di tutte le tentazioni cioè l'illusione di guarire come su tre livelli il fatto per esempio di pensare che se io sono soddisfatto ecco a livello proprio di sazietà ecco se io ho quello che mi piace se io sono sazio se io possiedo denaro se io possiedo per esempio una vita godibile se io sono soddisfatto a livello emotivo a livello sessuale io risolvo il mio problema e questa è un'illusione perché non è vero poi di fatto perché questo può benissimo alimentare il mio egoismo quindi l'illusione primaria è quella di risolvere la mia infelicità il disprezzo di me cercando di essere soddisfatto e così per esempio tutte le situazioni di bulimia tutte le situazioni o anche di rifiuto del cibo che poi sapete l'anoressia e la bulimia sono in fondo i due poli di uno stesso problema poi il fatto della possessività ecco mi illudo che io posso salvarmi dalle mie cose se possiedo le persone se le persone sono mie e questo per esempio è causa di tanti femminicidi ecco se non sei mia io poi preferisco distruggerti o sei mia o ti uccido il fatto di pensare che l'amore consista nel possedere possedere i figli possedere le persone possedere gli altri gli amici tutto devo controllarlo perché ho paura che mi sfuggano delle mani e questa è la seconda illusione che la prima è la sazietà la seconda è quello del possesso la terza invece è il fatto che Dio in fondo pretendo che la vita o Dio debba valorizzare le mie fantasie ecco io ho l'idea di buttarmi da una parte come per dire è un esempio come per dire faccio una cosa mia strana e vorrei tanto che la vita o Dio in qualche maniera la realizzasse come se io volessi imporre i miei progetti a Dio pur se sono un po' particolari quindi nella prima tentazione il rimedio mi illudo che sia la soddisfazione mi sento soddisfatto sazio e questa è una cosa molto ricorrente nella seconda il fatto di avere un potere anche il potere per esempio di affascinare gli altri voi vedete nella nella vita nella società per esempio affascinare gli altri il fatto di tentare gli altri di legarli a sé con con un con un fascino che li lega ecco questo tutto il mondo della magia tutto il mondo per esempio dell'erotismo il fatto di credere che tu gli altri li devi possedere perché non possono fare a meno di te ecco perché tu sei essenziale e queste cose sapete è un potere il fatto per esempio di tutto il campo della che vi posso dire di tutto il commercio che c'è su queste cose perché tu vuoi realizzarti possedendo ecco il terzo quindi prestigio potere tutte cose pensate quanto quanto si fa per ora per avere tanti like tanti follower followers tante tante persone che ti seguono la gente si vanta io ho un milione di di visibilità come per dire io ho il potere su un milione di persone infatti si chiamano influencer perché influenzano un sacco di gente e questo viene considerato come un segno di realizzazione cioè più hai persone che tu influenzi un po' e più ti senti realizzato ma è un'illusione perché non è questo il modo di gestire la vita perché Cristo alimenta il narcisismo poi si diventa in effetti si prende una strada contraria all'amore e quindi invece di migliorare la situazione ci si sente sempre più soli infatti poi si ricorre alla cocaina e queste cose alle dipendenze per rimediare un po' all'infelicità quindi sono strade sbagliatissime che purtroppo facilmente si prendono ecco mi avvicino alle persone con la prima tentazione mi avvicino alle persone per ottenere il piacere e il benessere ecco un po' quando quelle frasi che sembrano ingeni quando una persona dice a un'altra tu mi fai stare bene e uno si può chiedere il giorno in cui non ti faccio stare bene tu che fai mi dai un calcio perché giustamente se tu stai con me perché io ti faccio stare bene il giorno in cui mi permetto di dirti una cosa che non ti fa stare bene già è finito tutto perché la condizione è che tu mi fai stare bene e quindi diventa un egoismo camuffato un camuffato da amore quindi in fondo io cerco il mio appagamento nella seconda tentazione quello del possesso io mi avvicino agli altri per possederle per farle mie per controllare la loro vita per sedurle per dominarle ecco è come se posso dire quella persona è mia e deve essere mia da qui per esempio tutte forme di gelosie anche di invidie di cose morbose terribili che non c'entrano più con l'amore quindi siccome è la capacità di amare che ci guarisce ci allontanano vedete che è una cosa stranissima tu fai queste cose per risolvere il tuo problema in realtà lo rendi peggiore ti allontana dalla capacità di amare e poi nel terzo modo quello là del pinnacolo del tempio io mi avvicino alle persone con tutti i miei progetti io ho un progetto e mi servo di una persona per realizzare il mio progetto quindi pensate che io ho un sogno e mi avvicino a una persona non tanto per la persona ma perché mi voglio servire di quella persona per realizzare il mio sogno pensate per esempio quando questo si realizza anche nella famiglia per esempio mi sposo non perché voglio collaborare con te e voglio ti amo ma mi sposo perché io ho in testa una idea di famiglia che mi devo realizzare e mi serve un partner per realizzare il mio sogno certo quando l'altra persona si accorge che è solo uno strumento per realizzare il sogno dell'altro sapete su delusione altro che sanguinamento sono cose terribili ecco e queste false soluzioni di vita sono in realtà delle menzogne distruttive che si presentano invece come una medicina come un medico ecco è la tragedia solita degli idoli gli idoli hanno come concetto questo sono dei falsi dèi affascinanti per questo erano d'oro erano così affascinanti ma di fatto ti distruggevano io il libro consiglia di chiedersi io quali strategie sto usando per cercare di salvarmi dalla possiamo dire dal disprezzo di me stesso dalla mia condizione che mi sembra non amabile ecco che cosa sto facendo perché certamente ognuno di noi tenta giustamente prima di arrivare a Gesù di risolvere la sua vita da solo e poi noi magari siamo arrivati a Gesù e quindi il vero medico è Gesù e seguendo le terapie di Gesù si può dire obbedendo a Gesù noi abbiamo la possibilità che lui ci guarisca ma prima di arrivare a Gesù in effetti ognuno di noi ha cercato per più o meno anni di risolvere il problema con queste falsi percorsi medici ecco possiamo dire di soluzione quale strada sbagliata sto seguendo poi giustamente lui dice se per esempio mi accorgo che io sto seguendo una strada così di questo tipo io sentirò una sofferenza dentro però devo stare attento a non sprofondare nei rimorsi perché i rimorsi poi non servono a costruire bisogna superarli i rimorsi bisogna essere invece desiderosi di cambiare desiderosi chiedere a Dio il desiderio proprio di vivere una vita nuova e potrei anche addirittura arrabbiarmi con me stesso perché è una cosa che sto facendo mi piace molto pensate per esempio una persona che ha molte soddisfazioni perché non so ha fatto molto successo e molti soldi se dovesse dire ma questa strada che sto percorrendo anche se mi sta dando notorietà successo e anche dei soldi mi rendo conto che mi rende schiavo oppure pur di avere successo e soldi mi adatto a questa schiavitù non sono molte le persone che preferiscono la libertà del cuore rispetto a queste schiavitù dorate perché fino a quando una schiavitù non mi arricchisce ma sapete gente che guadagna milioni di euro speculando vivendo diciamo speculando sulle miserie degli altri sfruttando le situazioni di questo tipo alimentando un potere certamente non è facile che lasci questa schiavitù così favorevole e dorata perché il demonio tante volte per renderti schiavo ti dà anche molti accontentamenti infatti pure alla fine di questo capitolo anche l'autore dice in fondo come mai il Signore liberò il suo popolo dopo 430 anni che era in Egitto come mai si aspettò quasi 4 secoli e mezzo e la risposta c'è nella Bibbia perché per 430 anni il popolo tirava a campare erano schiavi ma in fondo avevano le cipolle d'Egitto avevano la carne cioè come vuol dire chi li teneva schiavi li accontentava quindi sapete un po' come facevano i romani che avevano un impero corrotto però per stare fare calma alla gente gli davano cibo in abbondanza alle persone e giochi il circo allora quando tu gli dai alle persone quello che hanno si devono saziare e anche i divertimenti e loro facevano quello che volevano cioè le schiavitù andavano avanti anche oggi onestamente devo dire che tante volte tanti bonus tante cose tanto per accontentare la gente non è che risolveranno il problema sociale perché poi sapete quando tu gli dai accontenta la persona perché ci manda 200 euro 300 euro ma poi quanto possono durare 200 euro 300 euro poi alla fine non risolvono niente ecco se quei soldi invece si mettessero insieme per creare posti di lavoro in effetti di miliardi sapete ora tutte si cattano un buono patto tutte si cattano un bicicletto se volete nelle città tantissime persone vedete poi la miseria umana ecco dovendo avendo degli sconti perché poi non è che te le regalano c'è su sconti e tu dici ah vabbè io ho questo favore questi bonus questi cose se spendi 500 mila lire io ti rimborso 50 mila lire e 50 euro dico adesso non voglio non sono manco competente in sociologia per queste cose però sono cose che penso che anche l'uomo della strada se ci riflette dice ma che risolvo così non risolvo il problema ecco non si possono risolvere i problemi alimentando le forme egoistiche o di picrizia ecco io poi ora vorrei impiegare un po' visto che ancora c'è un quarto d'ora su queste cose ci sono degli esempi da fare in effetti chi ha il libro nelle pagine 121 122 123 deve perderci un po' di tempo perché ci sono degli esempi belli per esempio nella prima tentazione quella là del pane che si trasforma delle pietre che si trasformano in pane rientrano per esempio la cura del look ecco l'immagine la moda il sesso libero come per dire l'illudersi che essendo liberi di fare sesso questa soddisfazione ti può risolvere la vita sapete c'è un milione di persone ma fra l'altro c'è un commercio fra posteduzione pornografie e tutte sti cose per cui il sesso libero la moda il look per esempio la cura eccessiva del cibo la cura eccessiva dei divertimenti l'ansia per esempio di ricevere attenzione e amicizie sapete c'è a tuote quante volte arrivano cose sito di amicizie immaginate tu ti imbarchi in queste cose oppure anche il campo il semplice facebook ho tanti amici ma su amici non su amici tu ti metti là comunque è una esporsi per poter cercare di avere in qualche maniera una falsa amicizia per esempio oppure la ricerca degli sballi il fatto che anche da adolescenti per esempio i ragazzi ricorrono allo sballo dell'alcol a stupefacenti dipendenze varie per esempio o culto del tempo libero eccessivo ecco il culto per esempio nel tempo libero dobbiamo fare questo curare più il tempo libero che il lavoro per gente che ha i soldi naturalmente perché è così ad ogni costo per esempio il fatto per esempio di curare le soddisfazioni della propria vita non so il fatto di curare eccessivamente la casa di curare eccessivamente l'immagine tutti questi sono sintomi di una prima tentazione in cui tu vorresti oppure per esempio tu vedi persone che stanno male e si fanno i capelli rossi capelli verdi capelli cioè oppure tutti questi tatuaggi eccessivi sono un segno che tu non sei soddisfatto della tua pelle della tua vita non sei soddisfatto e quindi cerchi di modificare il più possibile per rendere a modo tuo gradevole il tuo aspetto ecco pensate per esempio quante volte piercing da tutte le parti che mi vuoi dire cioè che senza i piercing la tua faccia non vale niente va e che per forza ti ammettere tutti questi piercing addirittura sulla lingua a tutte bande che poi dico fanno bene tante persone sono spurtusate da tutti i lati perché devi in qualche maniera per carità ognuno è libero di fare quello che vuole però sono un segno che tu non sei soddisfatto di quello che hai cioè la tua faccia quando ti guarda al mattino tu dici così sono nello schifo devo fare qualche cosa per rendermi più attraente più gradevole siamo sempre là questa è la prima tentazione quella di cercare la soddisfazione in questo senso a livello emotivo la seconda tentazione per esempio è come esempi la ricerca del ruolo sociale per esempio che è la seconda tentazione il potere no? io ho un ruolo sociale ecco non sono una persona da niente occupo un posto di direttore sono presidente di non so di qualche cosa il prestigio l'ansia di guadagnare molto per esempio il comando la carriera per esempio prestigiosa il fatto di sognare per sé per i propri figli carriere bellissime sai quante volte incontro gente che mio figlio studia a Oxford mia figlia non so è alla non so a qualche università particolare come per dire non è che si è scritta a Messina non è che si è scritta a Catania si è scritta almeno a Bologna non a Padova se poi se poi a Berlino è meglio se poi a Parigi è proprio se poi in Inghilterra cioè mia figlia è mia figlia ora tutte queste cose che accorgete sono un modo tanto per dire io ho bisogno di questo per sentirmi realizzato perché se mia figlia a un certo punto si iscriveva a Messina io mi sentivo come se fosse scadente sapete tutti cose che è un problema sono tentativi di guarire da un malessere da una insoddisfazione di sé che è peggiore della malattia in se stesso cioè aggrava la situazione quindi cercare amicizie importanti sapete c'è gente che si vanta ma io sono amico di questo di quello a casa mia abbiamo fatto una cena c'era il presidente di questo il presidente del tribunale di cose c'era non so tale politico tale sì cioè aver bisogno di queste cose importanti successo a ogni costo se mi devo fare una casa me la devo fare proprio ultra moderna domotica di tutti i tipi cioè io devo mi suono a Messina e apro il rubinetto prima cento cioè mentre sono per strada queste cose che ti raccontano no io ho il robot che la notte mentre dormo mi pulisce la casa onestamente su di per sé non sono sono cose lecite però se tu ne fai la ragione della tua vita ne parli come se fossi la tua realizzazione ti devo dire che ti stai illudendo perché ste cose non ti realizzeranno perché di fatto gratificano la tua vanità però di fatto ti lasciano poi povero e pazzo poi arriva arriva un virus e ti mettono il coso nella testa e te ne vai e finiva un robot finiva a casa finiva tutte cose per questo dico poi la vita ci prende in giro poi quindi se ti deve comprare la macchina se va a comprare la macchina da almeno quattro mesi tutti si devono girare i suoi figli dicevano i suoi figli sono i più prestigiosi di tutti la cultura mi ricordo una volta ho visto un biglietto da visita dove quella persona che me l'aveva dato aveva dottore in dottore in dottore qualche quattro lauree e poi tutte cancellate con la penna come vuol dire non fa conto che sognavo quattro lauree però lo scrivo ecco lo scrivo poi di fatto ma comunque in ogni caso vedete sono tentativi ecco e questa è la seconda tentazione non tanto quella della soddisfazione personale ma del prestigio davanti al mondo il fatto di avere un potere così la terza tentazione sono i grandi progetti personali ecco io faccio progetti molto molto grandi curo la mia immagine in maniera eccessiva ho delle idee straordinarie ecco pensate per esempio anche quando si sposano le persone devono fare cose fuori dell'ordinario perché chi viene deve dire come questo matrimonio non mai sa quante volte mi dicono sa si è sposato mia figlia mia figlia ma sa la gente che diceva ma come sto matrimonio non mai una cosa così avete questa soddisfazione vedete lui riporta pure come giustamente l'autore sta anche in una città dove ci sono anche tanti poveri dice ho visto famiglie rovinate perché per fare un matrimonio del genere una festa del genere si sono messi sotto sopra economicamente per fare un figurone ecco per chi ama fare figura dobbiamo quindi la curiosità per esempio cercare il gossip cioè sapete tutte queste ci sono giornali dove ti riportano l'ultima fidanzata di Berlusconi l'ultima cosa sognare gli rappresa tutte queste cose le curiosità più mondane le cose perdere tanto tempo dietro a vanità di questo genere dà la sensazione che tu in qualche maniera esci fuori dal tuo schifo ma non esci fuori dal tuo schifo perché poi perde tempo ti alimenti in queste cose e poi in questo modo ci sono delle distruzioni che sono peggiori della malattia perché alimentando queste cose a cui ho accennato a cui ognuno deve su cui se vuole guarire deve riflettere perché la tendenza a caderci tutti in una delle tre o in tutte e tre queste cose la tendenza ce l'abbiamo tutti perché vorremmo risolvere le piaghe della nostra vita con questi mezzi che ci sembrano a portata di mano perché sono umani e ci cascamo poi dopo anni in cui uno si distrugge perché poi facendo queste cose che abbiamo detto una persona diventa più arida più ipocrita più mondana più egoista più narcisista più fragile più ansiosa competitiva invidiosa gelosa attaccata alle beni materiali cioè uno si rovina cioè con queste cose che sembrano dei rimedi perché ti appagano in realtà dopo anni ti ritrovi che sei molto peggiorato e la tua vita si è dissanguata completamente anche economicamente c'è gente che arriva poi al baratro perché poi se c'è anche una specie di fallimento economico oppure c'è un insuccesso c'è qualcosa che non va una malattia grave pensate per esempio dopo anni che tu fai queste cose a un certo punto ti spunta una diagnosi di tumore ti viene un infarto dopo che sei in balia di queste cose veramente ti capisci la vita è finita però io sono sprofondato nella nella distruzione già prima di morire sono cose molto gravi quindi queste cose producono male perché poi si diventa si perde la sincerità si perde la semplicità si perde il gusto della vita semplice si ha paura del futuro perché pare che a un certo punto succede qualcosa e ti distrugge tutti i tuoi progetti ecco quindi che cosa bisogna fare in qualche maniera la prima cosa da fare dice l'autore giustamente è cominciare a guardare al di là delle apparenze il male come male e che si presenta invece come un falso bene cioè riuscire a capire che dietro delle cose che ci attirano di fatto c'è il veleno cioè mi attira una cosa ma devo stare attento perché dietro vi ricordate la famosa i lupi vestiti da agnello no? oppure l'ipocrite le tombe rivestite che non sembrano tombe e quindi tu passi vicino a una tomba ma ti pare invece una costruzione poi dice questa facciata c'è invece ossa di morte lui riporta due passi biblici il salmo 97 versetto 10 odiate il male voi che amate il signore bisogna a un certo punto odiare il male esplicitamente non lasciarsi affascinare dal male travestito da bene ma odiare il male avere il coraggio di dire questo è un male io non posso lasciarmi trascinare da questa apparente fascino che poi infatti è una tentazione e poi riporta anche Giovanni 12 25 chi ama la propria vita la perderà e chi odia invece la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna lui in verità da biblista giustamente ci dice che nel greco la parola vita viene espressa come un po' l'amore con molti vocaboli c'è la vita che viene tradotta dalla parola psiche che è la vita in fondo legata alla nostra psiche da cui poi in italiano c'è la vita umana carnale la vita per esempio gestita dal mio io la vita in qualche maniera mondana spontanea che mi viene proprio la gestisco io il mio io la gestisce e questa va rifiutata sarebbe la vita egoista la vita mondana mentre la vita che poi ci propone il Signore non la traduce con più psiche la traduce con zoe cioè la vita spirituale cioè la vita piena di Spirito Santo la vita piena la vita d'amore la vita vera la vita profonda la vita che mi realizza che poi sarebbe anche la vita eterna quindi siccome in italiano la parola vita può voler dire tutto infatti si equivoca un poco ecco quando noi diciamo io sono la via la verità e la vita Giovanni XIV la semplice vita una persona che non ha questa coniezione anche biblica dice ma io sono la vita ma perché tutti abbiamo la vita uno dice c'è bisogno che Gesù che mi dice io sono la vita ma quella è la vita nel senso pieno potremmo dire è la vita vera profonda ecco solo che in italiano un po' come la parola amore noi utilizziamo amore per tutto e infatti ognuno pure le persone più egoiste parlano d'amore mentre nel greco se vi ricordate tante volte ve l'hanno detto ci sono almeno tre vocaboli ecco la filia per dire l'amore di ammirazione ecco l'amore quello che noi chiamiamo un po' platonico no l'amore per esempio il fascino di una cosa proprio mi affascina Michelangelo per esempio le opere di Michelangelo mi affascinano per esempio una cosa ecco è l'amore di ammirazione filia infatti si dice filo americano ecco oppure filo cinese ecco quindi cioè che mi mi affascina poi c'è l'eros che è l'amore quello più possiamo dire del bisogno ecco noi lo intendiamo erotico in italiano però di per sé l'eros era l'amore bisognoso bisogno di un'altra che un'altra persona mi dia qualche cosa che poi ci entra pure l'eros l'erotismo però ha un significato più ampio eros significa bisognoso ecco ho bisogno l'amore di una persona che ha bisogno e quindi io ti do per avere questo e invece poi c'è l'amore quello di Dio che è l'agape significa l'amore di uno che non ha bisogno c'è la persona l'amore di uno che mi dà una cosa ma non ha bisogno lui me la dà perché mi vuole bene e questo è l'amore perfetto di Dio quindi sono ma in italiano vedete è un po' più povero l'italiano l'italiano sia amore che vita amore e vita e uno poi deve specificare in italiano che cosa intende per vita che cosa intende per amore vedete poi in italiano per capire un poco dice ma mi ami o mi vuoi bene perché giustamente in italiano se ti dici mi ami e chi non ti risponde no ti voglio bene ti pare che ti dici in fondo non ti ama però vedete queste sono cose italiane perché poi se noi le vediamo nella Bibbia non c'è questo tipo di mentalità perché si specifica l'amore in modi diversi quindi non si non si esce dal male senza fare una scelta ecco lui dice nel libro non si muore il male non muore di morte naturale lo deve ammazzare tu il male è come dire se aspetti che il male passa da solo non passa deve essere tu a scegliere e dire no non lo faccio più questo io non mi lascio più illudere da queste cose questa è una condizione necessaria poi per guarire cioè il fatto di dire io ho perso anni dietro a una di queste cose per questo chi vuole sta facendo questo percorso deve in qualche maniera esercitare quello che nel battesimo ci fanno fare la rinuncia rinuncia a satana a tutte le sue seduzioni ecco a tutte le sue la rinuncia è importante il fatto di dire no io rinuncio a inseguire l'idea di una mia soddisfazione così egoistica io vi ricordate Gesù che addirittura diciamo si propone in maniera completamente alternativa io sono venuto per servire e taglia tutto Gesù Gesù ha avuto una vita molto dolorosa ma non non è entrato in crisi per niente perché ha detto io sono qui per servire e dare la vita ecco io mi realizzo con mio padre io mi realizzo realizzando il piano di Dio e così apri questa strada alla Madonna a San Giovanni Battista eccetera occorre quindi il desiderio di non essere più schiavi schiavi dei propri desideri schiavi delle proprie idee dei propri progetti e quindi queste cose così sostanzialmente quello che vi ho detto è da pagina 99 a 127 finisce la prima parte del libro ora tutta questa prima parte se chi vuole approfondirla personalmente la deve in qualche maniera imparare ad assimilare ora il tempo che abbiamo prima delle cinque e mezzo è quello di chiedere al Signore di guarirci proprio da queste illusioni da queste situazioni che vorrebbero a modo nostro aiutarci poi alla fine invece ci distruggono e ci fanno perdere un poco la vita quindi